Buonasera da Giovanni Poggi e benvenuti a Reggio Emilia round 13 di Serie A La reggiana per avvicinare la Coppa Italia, Sassari per il primo successo esterno Alzata Pagliere per l'inchiodata, la prima con gli effetti speciali al Palabici La una o terza, torna avanti Recupero Cappelletti che poi va, finta, fa saltare tutti a Reggio Emilia Quarto in fila, Alessandro Cappelletti Tyree che corre contro Smith dal palleggio, anche lui con la tripla Tyree, Sassari scappa ancora Vitali, Uglietti, Angolo Galloway ancora, ci riprova Il risultato è sempre lo stesso Uglietti palleggia contro Uitta che lo porta sotto, si appoggia al vetro Segno, gran canestro Di voglia pura Lorenzo Uglietti 23 a 20 Transizione corsa con tripla Mandata a bersaglio da Tyree Transizione reggiana Galloway sotto per Hervé senza nemmeno guardarlo E poi di nuovo sotto per Atkins Che inchioda il meno 6 Ora 7 per Reggio Emilia, attaccato ad Alam Populo Sweber fino in fondo A bersaglio Gentile a palleggiare, centroare, alla fine diventa un assist per la Leup Galloway contro Tyree per andare fino in fondo Gran scarico Grant Per la tripla del sorpasso Reggio Emilia Sulla sirena del secondo quarto La Reggiana torna avanti Nuovamente è servito il 5 della Dinamo Gombo, gonne il blocco Faye con l'aiuto invece McKinney, spazio per pulire frontale Eccola qui la bomba Del ponso McKinney Weber E poi ancora Vitali Frontale con la tripla Su access di Hervé Smith angolo Hervé con la tripla Comincia a scaldarsi per davvero E poi chiama anche la spita Del pubblico di Reggio Emilia Mancazza di comunicazione In difesa Per la Dinamo Huita che era Battezzato per la tripla E lui risponde così Smith 9 secondi 8 secondi Tripla Dal palleggio Giamma Smith Smith Rapidissimo Killo in angolo Pide a posto e bomba Errore Magret Vola in cielo Palleggia Havkins Non guarda neanche il ferro Ma da Smith 5 secondi Dioppa copiato con lui Smith palleggia Ritrova il pallone Tira in faccia Dioppa Giamma Smith E chi lo tiene più adesso? 9 secondi Da palleggiare Galloway contro Tyree Dietro schiera Si mette in proprio Che canestro Galloway Alzata per Hervé Che alla fine Va a schiacciare Hervé Va al tiro Ma non va Vince La una o terza Reggio Emilia Batte Sassari 7-7 5-9 E trova l'ottavo successo In Serie A della stagione La Coppa Italia È bellissimo arrivarci Però l'importante Era vincere Per continuare Il nostro percorso di crescita Il nostro percorso di crescita